Presidente, grazie. Nell'augurarle buone vacanze, sincere, io le ricordo che questo Parlamento che ha iniziato i suoi lavori, i parlamentari sono arrivati qui l'11 marzo 2013, non è stato ancora capace di comporre le commissioni bicamerali, tra l'altro, e alcune delegazioni internazionali non hanno ancora il loro Presidente. Detto questo, le leggi di iniziativa parlamentare sono leggi che nascono qui per iniziativa dei parlamentari e non per ratificare iniziative che vengono da altri organi sovranazionali o trattati internazionali. Noi ci teniamo tantissimo e siamo sicuri che lei ha la nostra stessa sensibilità nel ribadire il fatto che questo Parlamento rischia di essere esautorato dei suoi poteri e se noi siamo qui, siamo qui a rivendicare la sua centralità e speriamo che alla ripresa possiamo cominciare a discutere leggi di iniziativa parlamentare. Sui regolamenti, un'ultima cosa, io spero che non baratteremo l'obbligatorietà di discussione delle leggi di iniziativa popolare con la riduzione dei tempi di discussione in Aula, uno degli ultimi strumenti in mano alle opposizioni in questo Parlamento. Grazie.